Bene abbiamo con noi Gennaro, ciao Gennaro Tutto bene? Bene bene, Gennaro è stato con noi una settimana, purtroppo domani se ne andrà, vero? Vero Come sei stato Gennaro? Sinceramente, ottimo Bene, Gennaro ha partecipato anche allo spettacolo ieri, ha fatto una bellissima salsa E anche una morte certa No, morte del figlio, non è? Ha partecipato, ha fatto un grande schiacciare, quindi ti sei divertito? Sì, mi sarà talmente divertito che vorrei ripetere questa vacanza Bene bene, noi speriamo di ritrovarci, chissà, entro l'estate, entro settembre oppure l'anno prossimo In un altro Apulia Hotel sparso nella nostra fantastica penisola Va benissimo Ciao Gennaro, ciao